Spider-Man No Way Home Benvenuto uomo ragno, finalmente ti riconosco Wabalabadabadab e bentornati su No Mamamazzo Bentornati nella rubrica film in uscita E bentornati nella rubrica Marvel Con molto piacere, sto per dire, l'attesa è finita Finalmente abbiamo visto, quantomeno io ho visto, Spider-Man No Way Home Questo video sarà spoiler nella seconda parte E non spoiler, ovviamente, nella prima Dove sarà un po' più cattivello, ovviamente Dove sarà un po' più critico Nella seconda parte, dove ci si può sfogare Nello spoiler, ovviamente, lascerò il via a tutte le emozioni Che mi ha suscitato questo film Prima di cominciare, se ancora non lo avete fatto Vi chiedo di iscrivervi al mio canale Di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video Di condividere il video con tutte le persone Che hanno avuto a che fare con il Doctor Strange E di commentare qui sotto Con quello che venne parso di questo film e di questo video Seguitemi anche sui miei altri social Tra cui Twitch e Instagram Dove potete rimanere aggiornati su quello che pubblico Su dove pubblico Per esempio su Twitch vi posso già anticipare Che domenica, verso le 9, faremo una live Totalmente spoiler, proprio su Spider-Man No Way Home Inutile dire che se devo pensare a un termine Per descrivere questo film O per descrivere tutto quello che si è portato dietro Questo film è hype E il secondo termine che mi viene in mente È anche fanservice Nel senso più ampio del termine Sia negativo che positivo Complice alla pandemia Questo film è stato, come tantissimi altri film, è stato rimandato Ma proprio perché è un film dove l'effetto sorpresa è fondamentale La segretezza e di conseguenza le speculazioni Sulla possibile trama del film sono diventate un meme La caccia alle notizie I vari leak Le fughe di notizie Su questo film resteranno Impresse nella storia del cinema internazionale Se non del cinema in senso stretto Di tutto ciò che riguarda la campagna marketing Per il lancio di un film E devo dire che i Marvel Studios In collaborazione con la Sony Perché i diritti cinematografici di Spider-Man Sono ancora della Sony Hanno fatto un ottimo lavoro Nel dare ai fan quello che volevano Nel dare ai fan quello che chiedevano Quello di cui si lamentavano in ogni social Ma è per forza un bene E devo dire che in questo film Appunto complici le emozioni Ne giova parecchio la visione Questo fanservice che ci hanno dato Che ci hanno servito su un piatto d'argento Però ecco non sempre è perfetto Nel senso non c'è solo del bel fanservice in questo film C'è anche del fanservice che dici Sì vabbè ok Ci hanno dato questa cosa qui Perché? Ma gli si perdona tutto Perché l'emozione che può generare Una determinata scena Va oltre alla qualità della scena stessa Ecco forse con questa frase Riesco a farmi spiegare meglio Il pretesto narrativo stesso È abbastanza semplice Lo abbiamo visto nel trailer Un incantesimo di Doctor Strange Andato storto Chiesto ovviamente dal protagonista Perché se no sarebbe un film di Doctor Strange Il nostro carissimo Peter Parker Chiede un favore al Doctor Strange Perché nella fine del secondo film Le cose gli sono andate in vacca E con un incantesimo andato storto Le cose vanno ancora più in vacca E questo è il pretesto narrativo Per far arrivare da altri universi Che poi sono gli universi cinematografici Degli altri due franchise di Spider-Man Che noi spettatori conosciamo già I vari nemici Per evitare di rinarrarne le origini Altrimenti un film con questi nemici Con le origin story di ogni singolo nemico Sarebbe durato dieci ore Si è voluto toccare anche il tema del multiverso Proprio anche grazie al successo di Spider-Man Into The Spider-Verse Il film d'animazione premio Oscar del 2018 Dove lì, sì, c'era un capolavoro anche di narrazione Oltre che di inquadrature, di scene Di come hanno composto l'animazione in modo innovativo Chiaramente la Sony non capisce mai Nemmeno quando fa giusto Quindi allora, siccome quel film che parlava di multiverso Ha fatto successo Allora facciamo anche un live action con il multiverso E sicuramente avrà successo anche questo Perché è ovvio Ma non alla stessa qualità Sia chiaro Ma perché ho esordito dicendo Benvenuto a casa uomo ragno Perché se per caso seguite il mio canale Da molto e se tendete a spulciare anche i vecchi video Se non lo avete fatto ve li metto qua in descrizione Qua nelle schede Io non sono un grande amante Di questa incarnazione di Spider-Man Lo Spider-Man scritto per il Marvel Cinematic Universe Mi fa cagare Mi ha fatto cagare Homecoming Mi ha fatto un po' meno cagare Far From Home E io sono andato a vedere No Way Home Proprio perché Quello che volevo vedere io di questo film Era appunto il fanservice E non Diciamo non certo L'evolversi della crescita di questo personaggio Ci avevo già rinunciato io ad apprezzarlo Questo personaggio Non mi sentivo assolutamente in target Però appunto andavo a vederlo Per l'effetto nostalgia che poteva crearsi Guardare questa pellicola E in certi punti in questo terzo film Ho notato le stesse cose Che mi facevano di grignare i denti Nei primi due film Che sono un po' Quello stile di narrazione Che per me non era assolutamente congeniale A questo Spider-Man Questo umorismo un po' troppo Così fuori luogo E mi riferisco non tanto al fatto Che il protagonista sia divertente E faccia battute Ma al fatto che il film stesso Sia divertente In un modo che non si addice A un film su Spider-Man Se non in un paio di scene In tutta la pellicola Ecco questo ritmo L'ho trovato anche nel terzo film Ma lo considero un pregio Perché mi piace che abbiano tenuto Una costante Di regia Di stile Nonostante tutte le cose Che ci fossero in gioco In questa pellicola Anzi Sarebbe stato troppo diverso Altrimenti se avessero cambiato registro Dall'inizio del film A questo non l'avrei apprezzato Dal punto di vista critico Magari l'avrei apprezzato Come gusti miei personali Ma sono felice comunque Che abbiano tenuto Questo ritmo Quanto meno all'inizio Poi chiaramente Le cose si evolvono I problemi si ingrossano Perché abbiamo visto che ci sono Già dai trailer Vari nemici da affrontare Quindi il tono Diventa un po' più serio Ovviamente Ma comunque con questi Con questi momenti Che proprio perché Il clima generale È un po' più serio È un po' più adulto Mi hanno dato Meno fastidio E comunque Sono giustificati Dagli altri due film Che piacciono a tutti gli altri Per carità Io alzo le mani E va bene così Nonostante appunto Questo ritmo Da John Watts Degli altri due film Che a me Negli altri due film Non piaceva Finalmente Ho visto Il Peter Parker Che volevo vedere Se non Magari all'inizio Del film Comunque Nel primo Nella prima parte Del film Fino alla fine Primo tempo Ho visto ancora Questo Spider-Man Lamentoso Questo Spider-Man Passatemi il termine Scusate Nuove generazioni Un po' Bimbo minchia L'ho visto Crescere Come dovrebbe Crescere Peter Parker L'ho visto Diventare L'uomo ragno Che forse Dico forse Potrebbe diventare Davvero il miglior Uomo ragno Trasposto dai fumetti Al grande schermo Nella prossima Trilogia Che ci sarà Se effettivamente Uscirà Il regista È stato molto bravo A cogliere Tutte le cose Che hanno fatto Storcere il naso Ai fan duri e puri E le ha Aggiustate Lungo il cammino Di questo film E dove Ha aggiustato Queste cose Ci ha fatto contenti Dove non c'era Nulla da aggiustare Ha comunque Inserito Dei camei Dei personaggi Delle citazioni Che ci hanno reso Ancora più contenti Quindi questo film È una festa Di fanservice Sotto ogni punto di vista Devo dire che In generale Il fanservice Fatto bene Supera Quello Fatto male Quello fatto male Secondo me Sono i pretesti Narrativi Per cui parte Tutta la narrazione La prima parte Del film stesso È un pochino Frettolosa E io lo capisco Che sia frettolosa Perché appunto Ci deve essere Tanta carne al fuoco Dopo da vedere Quindi La scelta narrativa Di far vedere L'inizio L'incip della storia In modo così veloce È voluta Però ecco Ti dà ancora di più Questo senso Che sia un pretesto Per raccontarci qualcosa Per raccontarci Questi nemici Che vengono D'altrove Magari Li avrei introdotti In modo diverso Ma anche no Va bene così Nel senso Si chiude un occhio Perché si sa Che quello Che si andrà A godere Del film Varrà Comunque il gioco Varrà la candela Avevo fatto anche Un video Su una possibile Trama licata L'anno scorso Addirittura Inizio quest'anno Non ricordo E avevo paura Che quella trama Se fosse stata Fatta in quel modo Non mi avrebbe convinto In un paio di punti Ora Quel video Sulla trama Licata È quasi Corretto al 100% Quindi Chi aveva fatto il leak Purtroppo L'aveva azzeccato Ma francamente È passato così tanto tempo Che non Non c'ho neanche Dato peso Proprio perché C'era un leak Particolare Su un personaggio Io pensavo Che quella cosa Che sarebbe successa Sarebbe stata Un po' Indebolita Dal fatto che Il personaggio stesso Si sarebbe appena Presentato E invece Devo dire Che sono riusciti Comunque A fare A venire Una gran voglia Allo spettatore Di provare Le emozioni Che prova Il protagonista E dare più credibilità Allo svolgersi Della seconda parte Della trama Quindi ecco Anche questo pericolo È scampato Tutte quelle cose Che sulla carta Sembrano Delle stronzate In mani Le hanno fatte In modo che funzionano Quindi Chapeau Tanto di cappello Francamente Non me lo aspettavo Visti anche i precedenti film Ovviamente ci sono Ovviamente ci sono delle cose Che non tornano Ci sono delle cose Che non vanno a spiegare Nel dettaglio Quindi non pensate Che vadano a spiegare Nel dettaglio Tutti i vari nemici Che avete visto nel trailer In quale punto Sono stati pescati Dal loro universo E se come dice il Dr. Strange nel trailer Il loro destino È morire per mano Di Spider-Man Quando noi sappiamo Che l'uomo sabbia In Spider-Man 3 E Lizard In Amazing Spider-Man 1 In realtà non muoiono L'uomo sabbia Scappa Presumibilmente Va da sua figlia E Lizard Finisce in prigione Può essere Che siano morti In battaglie successive Ma non è che Nel film Lo dicono Non viene spiegato Assolutamente Quindi Io me li sento Già quelli più duri E puri Che si lamentano Eh ma questa cosa Non l'hanno spiegata Ovviamente Non è importante Assolutamente Questa cosa Ai fini della trama In sé Mi piace Che non si siano Soffermati Su queste cose Si sono soffermati Su altre cose Che magari Non erano fondamentali Nemmeno quelle Ma hanno Generato Genereranno Per chi vedrà il film Molte più emozioni Ai fan Agli amanti Delle altre due saghe E anche Della saga Di questa saga stessa E dei fumetti stessi Ciò nonostante Sono comunque riusciti A non pestare Nessun merdone Non si sono calpestati Troppo In vari errori strani E di questo Sono molto 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 Felice Una piccola nota Prima di iniziare Con la parte spoiler Immaginavo che Francamente non Anzi Francamente non immaginavo Che avrebbero tenuto Tutti Tutti i doppiatori Originali Delle saghe precedenti Electro Alla stessa voce Alla stessa voce Che aveva in The Amazing Spider-Man 2 L'uomo sabbia Alla stessa voce Che aveva in Spider-Man 3 Ovviamente Goblin lo si sapeva già Lo ha doppiato Pannofino E anche Alfred Molina Allo stesso doppiatore L'unico che non ha La voce Che aveva in The Amazing Spider-Man È Lizard Per il semplice fatto Che anche Lizard Era stato doppiato Da Pino Insegno Pino Insegno Ha doppiato Sia l'uomo sabbia Che Lizard E io lo sapevo Quando ho visto Spider-Man 1 Che questa cosa Prima o poi Sarebbe arrivata Al pettine E ci sarebbe stato Un problema Io me lo sentivo Anche se erano Due saghe diverse Pino Insegno O comunque Il direttore del doppiaggio Ha scelto Che Pino Insegno Desse la voce A l'uomo sabbia Lizard Ha un altro doppiatore Bene Ora andrò A parlare Spudoratamente Di spoiler Nella parte spoiler Però dato che È il film dell'anno È davvero Un film dell'anno Non mi limito A un semplice 3-2-1 Ma lascio proprio Una pausetta Di 30 secondi Non mi frega un cazzo Se il video viene lungo Ma almeno Stiamo un attimino Tutti tranquilli Sul fatto che A scanso di equivoci Se non volete spoiler Fermate il video Nei prossimi 30 secondi Allora Benvenuti Nella parte spoiler Ragazzi Quello che io forse Non ho detto Adesso non ricordo È che Sono appena uscito Dalla sala E sono ancora Davvero molto emozionato Sono ancora Molto provato Tra le varie cose Che ho evitato Di leggere In questi giorni Ma che mi sono sfuggite C'è stato Un piccolo Passaggio Da un amico Che mi ha detto Guarda che Roberto Recchioni Curatore di Dylan Dog Ha scritto Che questo film Lo ha commosso E ho pensato Vabbè Commosso Addirittura Sembra un po' esagerato Per un film del genere Però Ho pianto Almeno Credo due volte Forse anche tre Non ci giurerei Ma forse anche tre volte È davvero Tosto come film La scena Ovviamente A cui mi riferisco Penso sia quella Che abbia fatto emozionare Più di tutti Che è Diciamo Il rifacimento Della morte di Zio Ben Si pensava magari Che in questo film Avessero fatto Non so Un flashback Sul fatto che Un flashback Su come Sia morto Zio Ben E che anche questo Peter Parker Provasse sensi di colpa Per la morte di Zio Ben Direi che è ufficiale Che La morte dello Zio Ben Non è associata In nessun modo Alla nascita di Spider-Man In questo universo Perché Perché È È ora È in questo film Che Peter Parker Diventa L'uomo ragno L'uomo ragno Che capisce Che da grandi poteri Derivano grandi responsabilità E glielo dice Sua zia Quando viene uccisa Dal goblin È una scena Che non mi aspettavo Nonostante erano Molte le voci Sul fatto che Una persona vicina A Peter Sarebbe Sarebbe Deceduta Io pensavo Ned Perché Nei fumetti Ned Non è così Amico di Peter E quindi Magari lo tagliavano fuori Per la prossima Eventuale trilogia Pensavo Che in realtà Poi non era una vera morte Ma nel prossimo film Sarebbe tornato Come Hobgoblin E invece No E invece Zia May Zia May Che è diventata A tutti gli effetti Lo zio Ben Di questo Peter Parker E che ci ha finalmente Regalato La scena Storica Di cui ci avevano privato In homecoming Perché l'abbiamo già vista Nei film di Remy L'abbiamo già vista Nei film di Webb E quindi Questo Bimbo minchiaragno Non aveva Questa origin story Era sottointesa E questo lo faceva sembrare Molto Molto leggero Sembrava che non sentisse Il peso Delle famose responsabilità Di Peter Parker Con questo voglio dire Che John Watts Ci ha visto molto giusto John Watts O la Sony O la Marvel E ha capito Le lamentele Di alcuni fan E ha pensato Di scrivere Questa scena In questo modo Però cambiando Le carte in tavola Cioè Hanno continuato A non mostrarci La morte di zio Ben Ma ci hanno comunque Mostrato Una morte epica Una morte toccante Una morte emozionante Che ha fatto crescere Il protagonista E lo ha Trasformato Da uno spider boy A quello che effettivamente Diventerà Lo spider man Probabilmente migliore Di sempre Comunque uno spider man Molto vicino A quello che io amo Che è quello dei fumetti Un'altra cosa Che mi ha emozionato E che io speravo Succedesse Speravo appunto Dal trailer Quando ho visto MJ cadere Dall'impalcatura Di quella che poi Ho scoperto Fosse l'impalcatura Andate a cagare 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 Andate a fanculo Vedere MJ che cade Dall'impalcatura Che Peter Ovviamente Peter Holland Cerca di prenderla Ma che in quel momento Non riesce Perché quel pezzo La sua Gwen Riesce a salvare La ragazza che ama Il Peter Di questo universo E vedere che Quando la afferra La prende in braccio Si mette a piangere Ragazzi A me questa cosa Mi ha distrutto È stata fantastica Non tanto Il salvataggio in sé Ma il fatto Che gli abbiano dato Il giusto peso Che doveva avere Questa scena Perché se la salvava E non Prendevano un momento Per citare Quanto questa cosa Significasse Per lo Spider-Man Di Andrew Garfield Sarebbe stata buttata via Ma in questo modo Gli hanno davvero Gli hanno davvero Reso omaggio A questo Spider-Man Di Andrew Garfield E gli hanno dato Una degna Catarsi Una degna conclusione Che non abbiamo Mai realmente visto Nella duologia Tronca Di Mark Webb Resto ancora Su Andrew Garfield E poi mi collego Al nostro storico Ragnetto Mi è piaciuto Che abbiano usato Questo uomo ragno Quello di Andrew Garfield Come in un certo senso E passatemi il termine Linea comica Supereroistica C'è Ned Che è la linea comica Ma tra i tre Spider-Man Quello che fa più battute Quello che stempera Di più la tensione Quello che fa più Il cazzone È Andrew Garfield E questa cosa Mi fa morire Mi è piaciuta Un sacco Perché Innanzitutto Tiene fede A come ha interpretato Lo Spider-Man In quella Nella sua duologia Nei suoi due film Nella saga Amazing Ma soprattutto Io che sono fan Di quello Spider-Man Dello Spider-Man Di Andrew Garfield Che reputo Tuttora Quello più fedele Al fumetto Come battute Come personaggio E anche quelli Che dicono Che no ma Come Peter Parker È troppo figo È troppo cool Andate a cagare Anche voi Andate a fanculo Anche voi Un attimo Mi ha fatto davvero Piacere vedere Che Quello Quell'Andrew Garfield Quello Spider-Man Fosse quello Più umoristico Più che spezzava La tensione Più che Metteva anche a disagio Gli altri due Quando gli ha fatto così Ha detto ragazzi Vi voglio bene Appena conosciuti E Tobey Maguire E Tom Holland Lo hanno guardato stranissimo Questa cosa È stata Una scelta Azzeccatissima Chiudo La parentesi Andrew Garfield L'entrata Degli Spider-Man Pensavo fosse Molto più ad effetto Pensavo che davvero Arrivassero da dei portali Come in Infinity War Scusate Come in Avengers Endgame Invece È un po' sottotono È un filino Sottotono Ma Devo dire che Tutto sommato L'entrata in scena Di Andrew Garfield Non mi è dispiaciuto affatto Perché quando Ned apre per sbaglio Un portale Cercando Spider-Man E vedi da lontano Uno Spider-Man Vedi quegli occhi Anch'io stesso Ho pensato fosse Peter In quel momento Che magari Era in un vicolo Perché Voleva stare da solo Per quello che era successo A Zia May Quando si avvicina E si capisce Che il costume è diverso Che è quello di Garfield E poi Garfield Toglie la maschera E vediamo il suo volto La sala è esplosa È stato Fantastico Proprio per questo Io non avrei usato Lo stesso metodo Per far entrare Anche Tobey Maguire Che è molto più popolare Di Andrew Garfield Da questo punto di vista E invece hanno fatto Anche peggio Cioè non solo L'hanno fatto entrare Nello stesso modo Ma l'hanno fatto entrare In un modo Orrendo Lui è Innanzitutto Mi dispiace per Tobey Maguire È invecchiato malissimo Rispetto a quello Che ho visto Anche nelle foto Recenti È invecchiato Molto male E Era vestito In borghese Cioè era vestito casual Non aveva Il costume di uomo ragno E sembrava un passante Un tizio qualunque Cioè poteva essere Don Matteo Era uguale L'hanno proprio Fatto entrare In questo modo Tristissimo Unito al fatto Che di aspetto Lì per lì Non è che si Riconoscesse molto E Lì la sala Non ha mosso Molto Un muscolo Forse se avessero Usato la stessa Entrata Ma con la divisa In tutto e per tutto Sarebbe stato molto più figo Invece la divisa Viene vista poco Scopriamo solo Prima dell'entrata In scena finale Che Lui ha avuto Il costume Sotto i vestiti Tutto il tempo Come lo spiderman Dei fumetti Per carità Però cazzo Non mi puoi far entrare Tobey Maguire In questo modo È È umiliante È avvilente Ancora ho detto Che avevo chiuso Con Garfield Ma mi è piaciuto Molto il momento In cui Narrativamente Hanno trovato Un pretesto Per far dire A Andrew Garfield Che lui è quello Che vale meno E gli altri due Gli dicono No non dire così È la tua voce Nella testa Fatti forza Fatti forza È stato Spettacolare Che abbiano usato Questa cosa Che c'è Nella Nella cultura popolare Che lo spiderman Di Andrew Garfield È quello Amato meno Per buttarla Nella pellicola E giocarci È stato Divertentissimo Una scelta Stupenda Ho parlato Dei momenti belli Dedicati a Andrew Garfield I momenti belli Dedicati a Tobey Maguire Sono stati anche questi Dosati Ma precisi Chiaramente La morte Di zia May È stata più Sentita Dallo spiderman Di tom holland E l'hanno fatto Interfacciare un po' di più Con Lo spiderman Di Andrew Garfield Perché Lo spiderman Di Andrew Garfield Ha perso Lo zio Ben E ha perso Gwen Così come Tom holland Ha perso Lo zio Ben E ha perso La zia May Oltre a Tony Stark Qua invece Tobey Maguire In questo contesto Ha perso solo Lo zio Ben Non gli è morto Nessun altro O meglio Ha perso lo zio Ben E ha perso Harry Ma in quel contesto Aveva più senso La perdita dello zio Ben Infatti a lui Hanno fatto nominare Zio Ben E a Andrew Garfield Hanno fatto nominare Gwen Stacy L'altra scena fondamentale È quando Peter Parker Vuole uccidere Norman Osborn Vuole uccidere Il Goblin E anche lì Comunque è un personaggio Che viene da un altro universo Che è destinato a morire Ma che Fondamentalmente Non ha rovinato tantissimo La vita a Peter Ma per quel poco Che è stato In questo universo È riuscito comunque A essere Da diventare la sua nemesi Perché lo ha Gli ha ucciso Una delle persone Più care al mondo E quando Peter Cerca appunto Di ucciderlo Di trafiggerlo Col suo stesso aliante Citazione Nei fumetti È Tobey Maguire Che lo ferma In un certo senso Anche riscattandosi Dal fatto che Nel primo film Aveva schivato l'aliante E tecnicamente Accidentalmente Lo aveva ucciso È stata fantastica Questa scena Seppure è preso Un'infilzata Da Goblin Infortunatamente Non ha fatto morire Anche Tobey Maguire Però è stato Fantastico La scelta Di determinati Determinate scene Fatte interpretare Determinati personaggi È stata davvero Delicata Stupenda E anche in quel contesto Hanno usato Andrew Garfield Per far stemperare La tensione Dato che era Feritissimo Tobey Maguire Il momento di connessione Di tutti e tre Invece è stata proprio La fantastica frase Storica Che finalmente Viene detta espressamente Anche in questa saga Da un grande potere Derivano grandi responsabilità Nel momento in cui Peter capisce Che non solo A lui è stata detta La zia May Prima di morire Ma anche agli altri due Spider-Man È stata detta Da zio Ben Prima di morire Capisce che Non deve mollare Deve continuare A portare avanti L'etica Di Spider-Man Che zia May Gli ha insegnato Finale Molto triste Molto romantico Molto sacrificio Alla Tobey Maguire Ovvero che lui Decide di rinunciare All'amore della sua vita In un certo senso Baratta L'amore che ha Con MJ Perché rinuncia Alla sua identità Di Peter Parker Alla fine del film Per salvare Per evitare di peggiorare Quello che è successo Con l'incantesimo È stato un gesto Molto nobile Che lo ha fatto Crescere Come personaggio Ed è anche un pretesto Fantastico Per chi vedrà Solo la nuova trilogia Di riraccontare Questi nuovi personaggi Che si rincontreranno Per la prima volta È stato anche fantastico Come nel finale Peter ha deciso Di non cercare Di forzare Di forzare le cose Di cercare di forzare La memoria di MJ Facendo ricordare Quello che è stato Ma semplicemente Chiedendo un caffè Andandosene Assicurandosi Che loro stessero bene E essere felice Per quello Non so se La sua scelta È stata dettata Dal fatto Che ha visto La ferita Che si è fatta MJ Durante la battaglia finale E quindi Ha pensato Senza dirlo Come nel film di Remy Che non vuole Metterla in pericolo Non lo so Lo vedremo Nei prossimi film Tra le altre cose Che John Watts Ha sistemato Ovviamente Mi riferivo anche Al fatto Che Peter finalmente Si cuce Il vestito da solo Il vestito Che vediamo alla fine Quando entra Nell'appartamento Che credo sia Lo stesso appartamento Piedocchioso Di Tobey Maguire Credo che La voce che sentiamo Che chiede l'affitto Sia sempre Il signor Diktovich Che però In italiano Non è stata doppiata Correttamente Ma secondo me Il signor Diktovich Entra in questo appartamento Perché chiaramente Non vive più con Zia May Dato che non c'è più Vive in questo appartamento E vediamo Che ha finito Di cucirsi un costume Sgargiantissimo Che ricorda molto Lo Spider Il costume di Spider-Man Attuale che c'è nei fumetti Ma però fatto Con ago e filo Vediamo che ha usato Una macchina da cucire lui Finalmente se l'ha cucito lui Ed è un signor costume Che vediamo solo Per pochissimi secondi Questo lo rende a tutti gli effetti Lo Spider-Man Esattamente Privo diciamo Dei difetti Che noi puristi Notavamo Nei primi due film A Emma Il bel costume Gliel'ha fatto Tony Stark Non se l'ha fatto da solo Bla 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 Emma non c'è stata La morte di Zia May Tutte queste cose qua Qua hanno aggiustato Tutte le cose Quindi quando io ho visto il finale Ho detto Spider-Man Benvenuto a casa È un vero peccato Che tutti si siano dimenticati Di aver conosciuto Peter Parker Perché Peter Parker In questo film Conosce Charlie Cox O meglio Conosce Matt Murdock Nei panni di Di avvocato Non nei panni di supereroe Daredevil È una scena molto carina Quando Arriva il sasso Lanciato dalla finestra E sia Peter che Matt Cercano di prenderlo Ma Matt intercetta Persino Peter E prende il sasso E tutti lo guardano Come dire Cazzo Ma sei cieco Come cazzo hai fatto È stata una figata Mi dispiace Che tecnicamente Matt in teoria Non se lo ricorda Quanto meno Di aver conosciuto Peter Parker Credo È in base all'incantesimo Che c'è alla fine Quindi semmai Si rincontreranno Si rincontreranno Per la prima volta Mi ha fatto anche Molto piacere Che lo stesso giorno Il 15 dicembre Qui abbiamo visto Ufficialmente Matt Murdock Nell'MCU In un film MCU E sulla puntata Di Hawkeye Abbiamo visto Ufficialmente Wilson Fisk Di Vincent D'Onofrio Nell'MCU Per quanto riguarda I sinistri 6 Sono stato molto contento Di vederli Gestiti in un certo modo Soprattutto Electro Doctor Octopus E Goblin Un po' Gestiti un po' Meno Lizard E Sandman Ma credo anche Perché gli attori Non credo fossero Altrettanto disponibili Se ci fate caso Li hanno tenuti in CGI Per quasi tutto il tempo Quindi molto probabilmente Non Non ha O non volevano Gli attori Oppure la produzione Stessa ha detto Va sì Ma questi li mettiamo Così E vaffanculo Però mi piace Che hanno approfondito Vabbè Doctor Octopus Si vedeva Che era quello Che collaborava di più Proprio Che interagiva di più Con loro Avevo azzeccato E Doctor Octopus A collaborare con loro Quindi questa cosa Mi ha fatto piacere Che l'ho indovinata Mi è fatto piacere Che hanno aggiustato Il chip di Doctor Octopus Che sono riusciti A curare I sinistri 6 Anche se Anche lì Mi ha fatto un po' Storcere il naso Che Non è stata Per forza La mutazione Per tutti A renderli Cattivi Cioè Non è curando La mutazione Che uno torna Sulla retta via Però vabbè È un po' Semplicistico Come concetto Però vabbè Ci stava Ci stava Che l'unione Dei tre Delle tre menti Dei tre Peter Insieme Che mi è fatto Tantissimo piacere Vedere insieme In laboratorio Si è riuscita A curare Quasi tutti I sinistri 5 Mi è fatto piacere Che abbiano dato Meno spazio Alla cura di Lizard Perché fondamentalmente Era la trama Del primo Di Amazing Spider-Man Invece si sono Concentrati un po' Sulla cura di Di Norman Osborn E su quella Di Ottavius Mi è piaciuto molto Che abbiano dato Molto spazio A Electro Che non pensavo L'hanno davvero Rivalutato Anche rispetto Al film Di Amazing Spider-Man 2 Gli hanno dato Fondamentalmente Un nuovo carattere Che è un po' La summa Della sua esperienza Da sfigato Prima E da super potente Dopo Diciamo Gli hanno dato Un carattere un po' Un po' Dalla strada Un po' Tutto smargiasso E mi è piaciuto molto Mi è piaciuto Come hanno giustificato Il cambio Di colore Da bluastro Alla Colore della pelle naturale Che aveva prima Giustificando il fatto Che l'elettricità In questo universo È diversa Infatti Non è più blu Ma è gialla Per chi segue Flash Il fatto che ci siano I fulmini diversi È una chicca Su Sulle varie elettricità E questa cosa Mi ha entusiasmato Cioè mi piace che non l'abbiano buttata a cazzo Ma che l'abbiano un po' spiegata Mi è anche piaciuto il confronto finale Quando di nuovo Electro perde i poteri Con lo Spider-Man di Garfield Che insomma Non c'è stato Un vero e proprio rancore Ma una sorta di sconfitta interiore Con Andrew Dico Andrew per capirsi Che Perpetua l'amicizia Che si era creata Con Con Max Dillon E questa cosa È stato davvero Un tocco Di classe Rispettoso Verso quei due film Anche l'incontro tra Octavius E Peter È stato molto bello Però Devo dirvi Io Il Tobey Maguire L'ho visto un po' sottotono Mi è piaciuto Che abbiano citato Anche tutte le frasi La potenza del sole Nel palmo della mia mano Peter Parker Brillante ma pigro Come stai? Un po' meno pigro Non si direbbe Tobey Maguire Però vabbè Tutte queste cose qua Mi piace Come le hanno citate Anche tutte le frasi Del Goblin Però ecco L'ho visto un pochino Spento in alcune scene Tobey Maguire In altre invece Mi è piaciuto molto Oltre alla CGI ovviamente Mi è piaciuto come hanno Dosato i personaggi Di contorno Hanno comunque fatto vedere Un attimino Betty Brent Hanno fatto vedere Flash Thompson E il suo amore Per Spider-Man Hanno fatto Hanno finalmente Tinto Cioè hanno finalmente Tinto Flash Thompson E a tutti gli effetti Biondo Si è tinto i capelli Di biondo Tant'è che Quando io l'ho visto Ho detto Cavoli vuoi vedere Che hanno tinto Flash di biondo Perché mostrano Un Harry Osborn Perché comunque Questo Flash Thompson Assomigliava un po' A come fare Come modi A Harry Osborn Quindi magari con la tinta Cercheranno di separare Un po' i personaggi Invece no Non c'è stato Nessun Harry Osborn Bene ragazzi La mia recensione Finisce qua Perché mi sono già Dilungato troppo Ho tempi Victor Lazzololiani In questa recensione Ma non I suoi stessi follower Quindi scusate Cercherò di tagliarla Un attimino Noi comunque Ci possiamo dilungare Molto di più Questa domenica Su Twitch In cui Se mi vengono in mente Altri dettagli O se vogliamo Approfondire i dettagli Che ho nominato qui Ne possiamo parlare Tranquillamente Io come sempre Vi ringrazio Per avermi seguito Fino a qui Con l'inchino E con l'imbuto Vi saluto E vi dico Arrivedorci Al prossimo universo E vi dico